Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentaduesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Microsoft e del suo amore nei confronti di Linux. Questo oramai è un dato di fatto confermato dalle sempre più frequenti aperture di Microsoft nei confronti di Linux e dell'open source fatte negli ultimi tempi. L'ultima manifestazione d'affetto è stata l'annuncio di supportare l'aggiunta della tecnologia XFAT all'interno del kernel Linux. XFAT è il file system sviluppato da Microsoft che viene utilizzato su Windows e molti dispositivi di archiviazione come schede SD e unità flash USB. Le specifiche tecniche sono state rilasciate anche grazie al fatto che Microsoft ha recentemente aderito all'open innovation network saranno incluse nella versione 5.4 del kernel Linux, il cui ciclo di sviluppo è iniziato qualche giorno fa. La versione stabile del kernel Linux 5.4 dovrebbe arrivare a novembre del 2019. Non si è fatto attendere un commento della Linux Foundation che si è detta felice di questo annuncio. Chi non è felice di questo annuncio sono praticamente tutti gli starmaniani che vedono in questa mossa il solito proseguimento della strategia di Microsoft e dell'abbraccio sem distingui. Anche se io non so, questa volta ho qualche dubbio perché Satya Nadella mi sembra una persona decisamente diversa dai suoi predecessori e quindi tutte le aperture che sta facendo nei confronti di software libero open source e del Linux non li vedono tanto in maniera negativa. Può darsi che forse ci crede veramente. Comunque lo scopriremo soltanto vivendo e lo scopriremo naturalmente a nostre spese. Comunque noi utenti Linux siamo sempre con gli occhi aperti perché, come disse qualcuno, temo gli ok anche se portano voli. Quindi siamo sempre pronti e vigili. Passiamo adesso alla rubrica Il mio setup. Che cos'è la rubrica Il mio setup? È una rubrica nata qualche settimana fa dove voi lettori potete condividere la vostra postazione informatica. Nell'ultimo episodio, nella puntata 5 pubblicata lo scorso lunedì, abbiamo avuto l'ospite Alessandro che ha presentato la sua postazione itinerante formata da uno Xiaomi Mi Air 12.5 su qual far girare Arc Linux. Andatevi poi a leggere tutto il post su Marcosbox. Vi ricordo che potete condividere la vostra postazione informatica inviandomi tutto alla mail che trovate su Marcosbox tramite Facebook oppure potete contattarmi tramite la community Telegram di Marcosbox. Vi chiedo anche di iscrivervi alla community Telegram di Marcosbox perché è diventata una community molto viva nella quale spesso si trovano soluzioni, ci si scambia consigli. Quindi fatelo e ne vale la pena. Passiamo a Linux Mint. Linux Mint 19.2 è stato rilasciato qualche tempo fa, non molto tempo fa diciamo. Il team di Linux Mint comunque si è già messo a lavoro per la prossima versione, la 19.3 che è prevista per Natale. Ci saranno alcuni miglioramenti per quanto riguarda il cammino già intrapreso con le precedenti crevise, non ci saranno grossi stravolgimenti, ma soltanto aggiornamenti quella e miglioramenti quella. Il primo miglioramento riguarderà lo strumento impostazioni di lingua che consentirà adesso anche di impostare il formato dell'ora. Migliorerà il supporto HTTP che è stato aggiunto con la 19.2 ma che verrà perfezionato e quindi verranno risolti tutti quei bug che ancora ci sono su Linux Mint 19.3. Verrà migliorata anche l'icone nella barra di stato, grazie allo sviluppo di XApp Status Icon che in modo simile ad App Indicator quello sviluppato da Canonical tramite D-Bus trasferirà le informazioni alle Applet e considererà il loro di visualizzare attivamente l'icona nella barra delle applicazioni. Quindi risolverà tutti i problemi connessi alle icone di terze parti che interagiscono con il pannello, ci sarà anche il supporto alle azioni tipo quelle con il tasto destro e quant'altro. Verrà sviluppato un primo Applet per Cinnamon e successivamente verrà creato un Applet per Mate ed uno per XFSA in modo tale da rendere tutto funzionante su tutti e tre i desktop environment supportati da Mint. Questa nuova tecnologia, XApp Status Icon, andrà anche a risolvere a radice il problema dell'icona del gestore degli aggiornamenti che su Linux 19.2 è bugata. Praticamente se utilizzate la 19.2 con Cinnamon vi sarete accorti che non succede a tutti, ma a molti utenti o non appare per niente l'icona degli aggiornamenti di sistema oppure appare ritagliata. Questo bug affligge anche me, ho anche riportato il rotempore nel ciclo di sviluppo della 19.2, ma non hanno fatto in tempo a metterci una pezza, stanno comunque lavorando per metterci una pezza anche per la 19.2, ma comunque hanno fatto sapere che con XApp Status Icon il problema verrà risolto alla radice sulla 19.3, quindi speriamo. Infine, arrivano anche notizie da parte della collaborazione che il team di Linux Mint sta facendo con CompuLab per i Mint Box, che sono dei mini PC con Linux Mint preinstallato. Hanno realizzato anche un nuovo logo che verrà serigrafato sul frontale dei Mint Box 3. Non si sanno ancora le specifiche e i prezzi dei Mint Box 3, però si sa che verrà reso disponibile in tre varianti, una con GPU Intel, una con GPU AMD e una con GPU Nvidia. Passiamo adesso a Firefox 69. Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 69 per Windows, Mac OS e Linux. Quali sono le novità principali? La prima novità riguarda l'enhanced tracking protection. A partire da questa nuova versione sarà attivata per l'impostazione predefinita l'ETP, rafforzando la sicurezza della privacy degli utenti. Come? Praticamente avremo di default il blocco degli elementi traccianti conosciuti in finestra anonime, il blocco dei cookie traccianti di terze parti e il blocco dei crypto miner. Dalle opzioni sarà comunque possibile attivare un blocco esteso, la modalità restrittiva. Nella modalità restrittiva avremo il blocco degli elementi traccianti conosciuti in qualunque finestra, il blocco dei cookie traccianti di terze parti, il blocco dei crypto miner e in più anche il blocco dei finger printer. Miglioramenti ci sono anche per quanto riguarda la funzione che blocca la riproduzione automatica dei video. È stata migliorata per offrire agli utenti la possibilità di bloccare qualsiasi video che si avvia in maniera automatica, non solo quelli che si riproducono con l'audio. Ci sono poi dei miglioramenti vari che riguardano Windows per miglioramenti delle prestazioni. C'è anche un miglioramento per quanto riguarda gli utenti che utilizzano Firefox su Mac OS. Ci sarà un aumento della durata della batteria grazie al fatto che adesso Firefox migrerà sulla GPU a basso potenza in caso di doppia scheda grafica, come insieme sui MacBook Pro. È stata fatta anche una modifica per quanto riguarda i plugin, ovvero l'opzione attiva sempre per il contenuto dei plugin flash è stata rimossa. Firefox ora chiederà sempre l'autorizzazione all'utente prima di attivare il contenuto flash. su di un sito web. Vi ricordo che questa nuova versione, Firefox 69, non verrà rilasciata per Android, per Android è stata rilasciata la 68.1 perché il team di Ziluppo si sta concentrando sulla prossima versione di Firefox, quella di cui vi ho parlato qualche mese fa, e che quindi è entrata in fase di manutenzione per Android. Ultima notizia della settimana, che non è una notizia, ma riguarda il logo di Marcos Box. Grazie al lavoro di Cucina, la ragazza di mio core amico Gabriele, abbiamo adesso finalmente un nuovo logo ad alta definizione, la mascotte di Marcos Box. La scatola in testa del pinguino è stata rifatta, è stata rifatta anche la scritta Marcos Box. Spero vi piaccia. Bene, con questo concluso, con Gabita Prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con il podcast di Marcos Box. Ciao ciao!